Trasferimento in aivista per la segreteria dell'istituto comprensivo di Chiavari 2. Dal Ministero il Comune attende lo sblocco delle risorse per l'ampliamento delle scuole Mazzini. Il Parco dell'Aveto ha approvato il progetto di riapertura delle miniere di Gambatesa, ora occorre l'autorizzazione della Regione. Lo sversamento di gasolio a Rapallo dipende da una cisterna e di locali parrocchiali, l'arciprete Monsignora Elelio Roveta afferma è sempre stata fatta la manutenzione. Braccialetti arancioni ai passanti per chiedere il potenziamento della misura degli arresti domiciliari, presidio a Chiavari degli avvocati penalisti del Levante. Assistenza per le cartelle di Equitalia, la Lega Consumatori offre un servizio alla gente per verificare se le somme richieste siano dovute. Festa di Santa Barbara, nella messa a Orero il Vescovo Alberto Zanasini ha incoraggiato i lavoratori dell'Ardesia e ha esortato a vedere le strade da percorrere per mantenere il lavoro. Testimonianze di vita consacrata, Sor Angela Maria Moreno dal Cile a Sestri Levante ha festeggiato 25 anni di professione religiosa nelle maestre pie. Dicembre in musica a Chiavari, la società filarmonica ha presentato il calendario che prevede 5 concerti, debutto nella festa dell'Immacolata. Signori all'ascolto, buonasera ad Alberto Viazzi che conduce in studio questa edizione della telegiornale in regia Alex Apollaro con l'assistenza di Giovanni Castello. L'apertura è dedicata alla scuola perché prosegue il lavoro di riorganizzazione degli spazi scolastici a Chiavari. Nei prossimi giorni inizieranno le operazioni propedeutiche per il trasferimento degli uffici dell'Istituto Comprensivo 2 che ora si trovano in via Rivarola nel palazzo delle scuole della Torre e che andranno nell'ala ovest del complesso delle scuole Mazzini. Gli spazi lasciati liberi verranno così utilizzati dall'Istituto Comprensivo 1. Sentiamo l'assessore alla pubblica istruzione di Chiavari, Maria Stella Mignone. La segreteria del Comprensivo 2 traslocherà a giugno, però diciamo che questo trasloco ci occupa tutti i mesi fino a giugno, da gennaio fino a giugno, perché ci sono anche archivi, traslocare una segreteria non è semplice e quindi si liberano anche altri spazi all'interno dell'edificio Scuola Media della Torre che andranno al Comprensivo 1. Qui cosa verranno ospitati, che attività? Questo non lo so perché diciamo che il Comprensivo 1 in base al piano dell'offerta formativa sfrutterà questi spazi come al meglio credono diciamo la dirigente scolastica con il Consiglio d'Istituto e con tutti i suoi docenti. Con il trasferimento della segreteria comunque l'Istituto Comprensivo 2 ha la sua ottimizzazione negli spazi. Sì, diciamo così, sono un po' vincolati nei numeri perché comunque la capienza dell'Ovest lo sappiamo, ma noi crediamo che almeno 5 corsi completi, barra 6, ci possono stare e quindi diciamo che la Scuola Media del Comprensivo 2 va a regime ormai e col trasferimento della segreteria diciamo che si ottimizzano anche i servizi. Sullo sfondo di questi trasferimenti comunque l'aspicio che venga sbloccato il patto di stabilità che vengono date risorse per l'ampiamento della Mazzini. Dal Ministero arrivano comunque rassicurazioni? Sì, settimana scorsa ho partecipato ad un convegno a Milano organizzato da Lanci. C'era un rappresentante del Ministero il quale sembra mi ha aperto un po' il cuore perché ha voluto rassicurarci dicendo che stanno lavorando proprio perché all'interno della Scuola Bella, Scuola Sicura, Scuole Nuove diciamo privilegeranno quelle città che sono virtuose come Chiavari e che hanno i fondi per poter fare i propri lavori e Chiavari si trova in queste condizioni. Quindi io mi auguro, sono tornata a casa col cuore più aperto, mi auguro a gennaio di avere questa notizia e quindi di poter partire con tutto l'interburocratico e amministrativo per l'ampliamento della Mazzini Est. Il Consiglio del Parco dell'Aveto ha approvato il progetto di riapertura delle miniere di Gambatesa. La riunione si è tenuta oggi pomeriggio ed è conclusa da poco. E allora facciamo un aggiornamento con Paolo Cresta che è il direttore dell'ente Parco dell'Aveto. Buonasera. Buonasera. Intanto spieghiamo perché è importante questo passaggio che cade tra l'altro in una data significativa oggi la festa di Santa Barbara, patrona dei minatori. Esatto, sì. Ci eravamo dati questo appuntamento quasi morale come scadenza insieme al gruppo di lavoro che ha predisposto questo progetto. Spiego un momento. La regione Liguria l'anno scorso aveva approvato verso fine 2014 una legge regionale che mancava fino a questo momento in Liguria che inquadrava e consentiva l'apertura di siti ex minerari a visite come attrezzando musei e quant'altro prevedendo anche dei sistemi di sicurezza e delle modalità in cui si poteva intervenire e operare in un campo che altrimenti non è normato. E voi adesso avete dovuto presentare il progetto? Prego. Adesso avete dovuto presentare il progetto? Esattamente. Abbiamo lavorato tutto quest'anno a imbastire il progetto, a studiare quali erano gli interventi urgenti e soprattutto a cercare di contenerne il costo perché la cosa che ci preoccupava di più è che ci fossero investimenti troppo ingenti per mettere in sicurezza delle gallerie ex minerari in maniera che potessero essere fruite e visitate come un museo, tanto per capirci. Dal punto di vista amministrativo adesso ci vuole l'autorizzazione da parte della regione Liguria. Voi però siete abbastanza avanti perché avete già messo da parte la somma necessaria per fare questi lavori, 270 mila euro risparmiati dall'ente Parco dell'Aveto. Qualora arrivasse l'autorizzazione, quali lavori dovete fare per poter poi riaprire le miniere di Gambatesa a scopi turistici? I lavori sostanzialmente più urgenti e importanti. La buona matizia è che tutti quelli che facciamo per l'apertura sono in realtà quei lavori definitivi e quindi questo investimento che ha citato lei, che abbiamo provato oggi, di poco più di 270 mila euro è praticamente un investimento definitivo. Non dovrebbero occorrere più altri investimenti importanti per far funzionare il Museo Militare di Gambatesa. Questi interventi riguardano la messa in sicurezza delle gallerie, il fatto di poter aprire due vie di uscita per garantire in qualsiasi momento la possibilità di far defluire il pubblico in caso di problemi. Questo è obbligatorio, mentre prima i minatori nell'attività minerale avevano una sola via di uscita, noi per poter dare maggior sicurezza al pubblico dobbiamo garantirne due. Sono tutte vie esistenti che, come dire, sono gallerie che già esistono storicamente, noi dobbiamo semplicemente metterle a norma con dei sistemi che possano garantire la possibilità di uscire. Lo stesso discorso. Poi torneremo sull'argomento. Comunque, quanto tempo dal momento dell'autorizzazione in poi occorrerebbe per poter effettuare questi lavori? Noi speriamo di poter avere l'autorizzazione della Regione già a inizio del 2016. Dopodiché, nel giro di due o tre mesi, possiamo completare i nostri lavori. Quindi l'appuntamento potrebbe essere sede primavera del 2016. Ci auguriamo. Grazie a Paolo Cresta per questo intervento in diretta, direttore del Parco dell'Aveto. Grazie a voi, buonasera. Adesso andiamo a Rapallo. Ieri nella cronaca ci siamo occupati di questo sversamento di gasolio da riscaldamento che ha attraversato il centro cittadino di Rapallo e che ha richiesto l'intervento prolungato dei vigili del fuoco. Oggi si è completata la bonifica dell'aria. Si è risalito effettivamente al guasto una cisterna dei locali della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. Abbiamo sentito allora l'arciprete Monsignore Lelio Roveta. Che problema c'è stato esattamente? Questo guasto in che cosa è consistito? Si è verificata in una cisterna che è adiacente alla basilica e che è a servizio dei locali parrocchiali del magazzino di deposito dei vestiti per i poveri, della segreteria, della sagrestia e di un piccolo condominio dove ci sono molti appartamenti, mini appartamenti per sacerdoti. Perché si è verificato il guasto? C'è stata comunque la manutenzione di questa cisterna in questi anni? Si è tutto regolare, perfettamente. L'unico di sette è che l'izianto è vecchio, diciamo, risalda circa 50 anni fa. E quindi certe cautele che oggi vengono prese nelle costruzioni non venivano prese. Ma la manutenzione è stata sempre fatta regolarmente. Avevate fatto il pieno di gasolio in questo periodo? Purtroppo sì, è proprio quello che ha provocato il danno, diciamo. Forse non l'avessimo fatto, non lo so. Però prima o poi cosa dobbiamo fare? Devo fare, era 2000 litri che abbiamo messo e quindi questo forse ha fatto pressione sulle pareti ormai lesionate di questa cisterna. E abbiamo fatto una regolare denuncia all'assicurazione e siamo quindi in attesa di riscontri delle varie ditte che lavorano. Questo è il fatto che mi ha fatto scoprire come in questi momenti di difficoltà scatta molta solidarietà. Perché tutti hanno avvertito, tanto non hanno messo in dubbio che ci potesse essere un dolo da parte della parrocchia o da parte di altri. Sono quegli eventi che sono causati e avvengono, come dire, improvvisi. E tutti hanno avvertito che era una cosa importante di valore per i beni della città, per le acque, per tutto. È terminato oggi lo sciopero di quattro giorni indetto dagli avvocati penalisti in tutta Italia contro la riforma della giustizia. In particolare a Chiavari questa mattina si è svolta una manifestazione davanti al vecchio palazzo di giustizia contro l'assoluta carenza di braccialetti elettronici. Andiamo a vedere che cosa hanno fatto gli avvocati. Unione Camere Penali Italiane, manifestiamo e siamo in astensione per i diritti dei carcerati affinché finalmente ci siano i braccialetti elettronici anziché la carcerazione nei confronti degli detenuti. Un finto braccialetto elettronico per puntare l'attenzione sulle carenze del settore giustizia e dire no ad una serie di provvedimenti e situazioni che penalizzano la categoria dei penalisti ma soprattutto gli assistiti. Con queste motivazioni gli avvocati di tutta Italia sono scesi in sciopero per quattro giorni, una manifestazione nell'interesse del cittadino ad avere un processo non di stampo autoritario, in contrasto con i principi e i valori costituzionali indeclinabili quali contraddittorio, immediatezza e diritto alla difesa. Vogliono aumentare e raddoppiare i termini di prescrizione, non vogliono più portare i detenuti in aula per fare i processi ma farli in videoconferenza. Ci sono le carceri con il 41 bis dove ci sono dei trattamenti inumani che neanche le bestie vengono trattate così. C'è un CSM che ormai non è più un ordine ma è un potere con le correnti quindi si può anche definire un terzo Parlamento. A Chiavari il presidio si è svolto davanti a quello che fino a qualche tempo fa era al Palazzo di Giustizia. I braccialetti messi ai polsi dei passanti sono quelli che dovrebbero avere coloro ai quali vengono concessi gli arresti domiciliari, ma non possono usufruire di questa condizione di carcerazione per le mancanze strutturali del sistema giudiziario. Non ci sono i braccialetti elettronici. Ci sono in Italia a disposizione del Ministero di Gratta Giustizia 2.000 braccialetti elettronici, ne occorrerebbero almeno 5.000. Il risultato è che il detenuto in attesa di giudizio viene praticamente umiliato due volte. La prima, quando viene arrestato, entra già in carcere e soffre già una carcerazione preventiva che non dovrebbe soffrire. Dopodiché gli dicono, bene, ti mando a casa, agli arresti domiciliari, perché ormai non c'è nessun problema di rischio, puoi tornare a casa, però devi avere il braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non c'è e quindi continua a stare in carcere. Abbiamo ospite in studio per altri motivi, Cristina Cafferata, che però è anche avvocato. E allora sulla scelta del servizio domando, che effetto fa vedere i colleghi in questa manifestazione? È giusto, secondo me, sensibilizzare le persone su queste problematiche, perché nel momento in cui non c'è certezza della giustizia, anche le persone faticano ancora di più. Cristina Cafferata è qui in avesse di presidente della Lega Consumatori della Liguria, perché c'è un'iniziativa importante, avete sottoscritto recentemente a Genova una convenzione con Equitalia. Il vostro ruolo quale sarà? Cioè, il problema innanzitutto che volete affrontare qual è? Il problema è che le persone sono soggette a continui invi di cartelle esattoriali. Quindi il nostro tentativo è fornire un servizio che permetta alle persone, tramite un sportello telematico dedicato, di ottenere copie delle cartelle esattoriali, di avere informazioni, ma soprattutto di ottenere il documento che si chiama relata di notifica. E quindi è l'atto che attesta se una cartella è stata correttamente inviata o meno. Ciò permette quindi di contestarla nel momento in cui vi siano vizi o nullità. Questo significa che è difficile innanzitutto ottenere le informazioni e poi orientarsi in queste cartelle di Equitalia? Sono molto difficili non solo da leggere, ma anche da ottenere informazioni. Vediamo ad esempio lo sportello di Chiavari, che è un vaccino di utenza molto ampio, che ha delle difficoltà, ci sono ore e ore di coda, e comunque poi il documento che attesta se l'atto è stato inviato correttamente non viene fornito dallo sportello. In questo modo avremo la possibilità non solo di averlo telematicamente, ma anche azzerando i tempi d'attesa. Prima poteva avvenire che non si ottenesse la documentazione. Quindi voi verificate queste cartelle e potete allora aiutare gli utenti, aiutare i contribuenti, nel senso di eventualmente anche non fare pagare somme che in realtà non sono dovute? Evidentemente, perché nel momento in cui risultasse un vizio o una nullità, si riesce ad aprire un contraddittorio per far annullare la cartella esattoriale, ma soprattutto quando si ha la certezza di quello che è dovuto, poi eventualmente si può fare una rateizzazione. Questa convenzione prevede inoltre che Equitalia per ogni provincia metta a disposizione nelle proprie sede un funzionario specifico nel momento in cui vi sono casi di particolari complessità, che quindi fisserà un appuntamento con i nostri delegati al fine di chiarire la posizione. In conclusione, come fanno gli abitanti a trovarvi per poter usufruire di questo sportello? Come possono fare? Siamo presenti su tutto il territorio ligure. A Chiavari inoltre è presente la sede presso l'Asli di Chiavari. Potete cercare online Lega Consumatori, come dicevo siamo presenti in tutte le province e con il nostro orario di ricevimento provvediamo a prendere la delega delle persone e a effettuare poi le verifiche per loro conto. Grazie a Cristina Cafferata, Presidente di Lega Consumatori della Liguria, per essere stata nei nostri studi. E adesso procediamo intanto con la cronaca. I carabinieri di Sestri Levante, nel corso di un posto di controllo alla circolazione in via Val di Canepa, hanno deferito in stato di libertà per guida in condizioni di abbrezza alcolica una giovane di 25 anni, abitante nella zona, sorpreso la guida di un veicolo con un tasso alcolemico al di sopra dei limiti di legge, e pertanto gli è stata anche ritirata la patente. E ora i temi di carattere diocesano. Abbiamo già accennato, oggi è la festa di Santa Barbara, protettrice di tutti coloro che svolgono dei lavori in condizioni di pericolo. È stata celebrata la messa per i minatori e i lavoratori ardesiaci a Orero con il Vescovo Monsignor Tanasini. La festa patronale di Santa Barbara è sempre sentita dai lavoratori dell'Ardesia, che però negli anni si riducono numericamente a causa della crisi del settore. Attualmente in Val Fontana Buona sono rimaste 15 aziende delle 70 che erano operative e molti capannoni sono ormai vuoti. I momenti adesso sono veramente difficili, sia dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della produzione, perché le cave sono sempre meno e abbiamo sempre molti balzelli, sempre di più. Nei comuni fontanini, dove si trovano le cave di Ardesia, a rotazione viene celebrata Santa Barbara. Quest'anno è toccato alla parrocchia di Sant'Ambrogio di Orero. Noi siamo lieti di fare la messa nel nostro comune, perché riteniamo una cosa importante. L'anniversario di Santa Barbara è il 4 dicembre. Io adesso, venendo su, mi sono ricordato una cosa che diceva mio padre, che era un lavoratore dell'Ardesia. La preghiera era questa, Santa Barbara benedetta, liberaci dai tuoni e dalla saetta. Santa Barbara è protettrice di coloro che fanno lavori in condizioni pericolose. L'uomo deve essere protagonista del lavoro, non strumento, ha detto il Vescovo Alberto Tanasini nell'Omelia, incentrata sul valore del lavoro come espressione della dignità e della nobiltà dell'uomo. Gesù stesso si è impegnato nel lavoro e tanti santi hanno lavorato nella loro vita, a partire dagli apostoli. In merito alla crisi del settore, Monsignor Tanasini, da un lato ha rassicurato sul fatto che anche nelle difficoltà il Signore viene, dall'altro ha esortato a vedere bene le strade da percorrere, perché il lavoro mantenga il suo scopo. Nell'anno della vita consacrata continuiamo la serie di testimonianze. Questa settimana andiamo a conoscere Sor Angela Maria Moreno, cilena, che è a Sestri Levante da sei anni e che ha festeggiato i 25 anni di professione religiosa nelle maestre pie, ovvero le suore della presentazione di Maria Santissima. Partita dal Cile. Dal Cile sì, è una chiamata. Inutile a dire io ho scelto io, perché non è così. Il Signore chiama quando vuole, dove vuole e come vuole. Perché posso dire che vicino dove io abitavo in Cile sono comunità di tutte le qualità. Clausura, non clausura, seglari, di tutti i tipi. Sono andato in Venezuela e l'ho trovato lì, nel sole della presentazione. E dopo tanto sono rimasto con loro. E' come qua. C'è un momento dove ha sentito forte questa chiamata? Guarda, è stato un cammino così dolce, se può dire, perché non mi ho reso conto. Mi sono camminato serena, semplice. Prima facevo apostolato, facevo catechismo, cose normali che lo fanno, anche come volontariato, che io lo facevo in Cile. Però mai avevo pensato alla vita religiosa. Quella è stata una cosa che non mi sono resa conto. E i momenti difficili, come hai riuscita a superarli? I momenti difficili, veramente difficili, penso che non sono stati, perché sempre ho vissuto la semplicità. Vivere giorno per giorno, mettendosela tutta. L'importante è essere convinta di quello che si fa. Giorno per giorno, e così si arriva a cento anni. E qua Sestri, come va? E' bene, sono sempre qui, con il mio lavoro. Però come le dico, cose grandi non faccio. Ma so che sono tutto il giorno occupata e mi godo quello che faccio. Il Vescovo di Ocesano Alberto Tanasini domani mattina sarà presente all'inaugurazione dei locali dell'Istituto Morando di Chiavari dopo il restauro, in programma alle ore 10 e 30. Domani pomeriggio alle ore 15 e 30 Don Pino Privitera, accompagnato dal Vescovo, farà ingresso nella parrocchia di San Lorenzo della Costa di Santa Margherita Ligure. Subentra a donna Bartolomeo Repetto che lascia per raggiunti limiti di età. E questa settimana è uscito il numero del cittadino, il settimanale cattolico dell'Archidiocesi di Genova. Vediamo i titoli in prima pagina. Porta Santa Africana, un gesto storico ideale all'inizio del Giubileo. Si fa riferimento all'apertura della porta della Cattedrale di Bangui in Repubblica Centroafricana da parte del Pontefice e poi in occasione dei 40 anni del cittadino dipendenti dal Vangelo, indipendenti dall'arresto è il titolo dell'editoriale del direttore Don Silvio Grilli. Proprio a causa del viaggio della Pontefice in Africa il compleanno di Radio Pace di Verona è stato rinviato e viene festeggiato oggi 38esimo anniversario di Radio Pace e Tele Pace Santa Messa a Verona questa sera celebrata dal Vescovo Monsignore Giuseppe Zenti. E ora veniamo a Cultura e Spettacoli con la musica. È stato presentato oggi il programma di Dicembre in Musica alla rassegna organizzata dalla Società Filarmonica di Chiavari. Saranno proposti cinque concerti. Nell'intervista con il direttore artistico Danilo Marchello presentiamo i primi due. Cosa ci avete preparato per quest'anno? Dunque iniziamo martedì, immacolata concezione, al pomeriggio all'auditorio San Francesco e avremo un concerto monografico dedicato a Mozart l'orchestra del Tiguglio con la partecipazione del soprano Roberto Invernizzi e sarà una giornata un po' particolare perché abbiamo scelto brani della trilogia da Pontiana Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così Fan Tutte dedicati espressamente alle donne. La giornata ovviamente si sposa con l'idea della grande donna però in maniera laica, ovviamente, la musica in maniera laica vorrà essere un omaggio a questa grande figura. Poi si prosegue con il concerto di Natale il concerto di Natale quest'anno lo faremo in collaborazione con il Conservatorio di Genova e il Conservatorio di La Spezia in particolare con le classi di strumento a fiato un grande ensambo di strumenti a fiato che propone un programma di musica originale del Novecento per strumenti a fiato e tra l'altro è molto interessante Di quanti componenti? Una sessantina, grosso modo. No, è molto interessante perché c'è l'esecuzione di una marcia che Puccini, il famoso Giacomo Puccini scrisse in onore di Alessandro Volta che si chiama Scossa Elettrica è un brano originale per strumenti a fiato che abbiamo trovato è poco conosciuto è poco conosciuto però è molto interessante perché stiamo parlando di un grande artista insomma poi il concerto prosegue con musica originale per strumenti a fiato e concluderà con un medley natalizio perché ovviamente il 26 dicembre si sposa 26 dicembre, ore? Sempre? Ore 17 Sempre ore 17 Continuano le mostre dei fumetti a Santa Margherita Ligure nell'atrio del primo piano del municipio la terza mostra sarà quella di Egle Bartolini inaugurata martedì prossimo 8 dicembre alle ore 11 e allestita sino al 7 di gennaio la Bartolini è specializzata in disegno umoristico si occupa di satira, illustrazione e fumetto comico i primi due artisti che avevano esposto erano stati Andrea Cunio e Gabriele Parma domani sabato 5 dicembre ci sarà una raccolta di fondi per sostenere le iniziative dell'AIMA l'associazione italiana a malattia d'Alzheimer dell'Atiguglio a Chiavari in via Martiri della Liberazione all'angolo con Piazza Matteotti sarà installato un banchetto con i ciclamini dall'ore 10 all'ore 19 ora sfogliamo insieme l'agenda degli appuntamenti domani sarà sabato 5 dicembre a Zoagli mercatino di Natale allestito in Piazza 27 dicembre dalle 9 alle 18 con artigiani, artisti e agricoltori a Sestri Levante nell'ambito della manifestazione pane e olio dalle 9 alle 20 in via Asilo Maria Teresa il mercatino non solo olio e in Piazza Matteotti la mostra mercato di prodotti liguri e italiani nell'ex convento dell'annunziata Sestri Levante dalle 10 alle 19 il salone pane e olio dove sarà possibile visitare anche la filiera della pane e sempre a Sestri Levante alle ore 11 sarà possibile assistere alla rievocazione storica di pesca alla sciabica a Villa Grimaldi di Lavagna apre il mercatino di Natale Acvo arte e fantasia in mostra con tessuti, quadri con fiori, libri alle 16 l'accensione dell'albero dell'Acvo sempre a Lavagna alle 9.30 nel porticato Brignardello aprirà la mostra mercato dell'artigianato artistico e nella sala Rocca i colori di lavagna con Babbo Natale per appendere sull'albero le letterine dei più piccoli a Genova nel Palazzo della Borsa in via 20 settembre per tutta la giornata con inizio alle 10 la manifestazione Sordi e Udenti una relazione possibile con incontri laboratori gratuiti alla scoperta del silenzio a Novi Ligure nel centro fioristico Dolciterre di Novi apre la rassegna delle produzioni dolciarie vitivinicole e gastronomiche che si potrà visitare dalle 10 alle 21 a Rapallo nella sala consigliare del comune alle 10.30 presentazione del libro Rapalline e Foresti scritto da Emilio Carta e da Mauro Mancini interverranno anche Mauro Cordano e Vittorio Mizzi nel pomeriggio a Lavagna aprirà il presepe del Brunzin nei giardini della Torre del Borgo che sarà visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19 a Santa Margherita Ligure nello spazio aperto di Via dell'Arco conferenza dal titolo il poema sinfonico e il nazionalismo musicale tenuta dal compositore Federico Ermirio sempre per la musica a Genova alle 17 nel conservatorio Nicolò Paganini un incontro dal titolo Dante e List tra musica immagini e parole aprirà a Chiavari nella Galleria Cristina Musi la mostra di pittura di Alessandra Gasparini dal titolo I Fiori del Mare inaugurazione alle ore 17 le visite tutti i giorni dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19.30 sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30 a Sestri Levante concerto del quartetto Alter Eco con inizio alle ore 17 per le vie del centro concerto di Natale con il trio Vulpani i giovani eroi dell'opera alle 17.30 all'auditorium San Francesco di Chiavari proposto dal Lavo del Tiguglio Orientale al Teatro Cantero proiezioni del film Chiamatemi Francesco il Papa della Gente alle ore 20 e alle ore 22 Alcune informazioni di servizio gli uffici del Comune di Chiavari resteranno chiusi lunedì prossimo 7 dicembre il pomeriggio a Neierone dal 9 dicembre sarà revocato il senso unico alternato sulla strada provinciale 21 posizionato all'altezza della chilometro 6 per lavori di consolidamento della strada che vanno quindi a terminare una giornata di alpinismo lento si è svolta nelle terre di Roccio nella zona di Biassa per iniziativa dell'associazione Mangia Trekking la partenza da Biassa il borgo costruito tra il Monte Castellana e il Monte Coreana poi Schiara il più grande dei borghi della costa a seguire Fontana di Donzano una fonte in pietra arenaria costruita dall'esercito napoleonico per soddisfare le esigenze idriche dell'accampamento sottostante quindi Monesteroli a picco sul mare con lo scoglio del Montonao di fronte e poi ancora Fossola dove purtroppo sono visibili alcune serie emergenze ambientali due esperti hanno anche illustrato come avviene la corretta costruzione dei muretti a secco e la produzione dello sciacquetrà si è capito così perché i territori resistevano nel tempo agli agenti atmosferici e all'azione del mare sottostante senza frane né cedimenti nuovo stop del tar alla caccia allo storno il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha annullato con sentenza di merito la caccia in deroga allo storno che era stata autorizzata dalla regione condannando inoltre l'ente a pagare le spese legali delle associazioni per la tutela della fauna ora la caccia in deroga viene anticipata di dieci giorni la data conclusiva pertanto del prelievo allo storno che era fissata il 10 dicembre viene anticipata di dieci giorni e pertanto il commento dell'assessore all'agricoltura della regione Liguria Stefano Maia è il seguente ci auguriamo che il grosso della raccolta delle olive sia stato effettuato e siamo certi che quanto attuato dalla giunta regionale sia servito a preservare una produzione fondamentale per l'economia Ligure per la cronaca a Moneglia una donna di 43 anni è stata fermata dai carabinieri in via dei Piani a bordo del proprio motociclo ed è risultata sprovvista del documento di guida poiché mai conseguito pertanto è stata denunciata a Sestri Levante un uomo straniero di 38 anni domiciliato a Genova è stato denunciato da un equipaggio dell'aliquota radiomobile per violazioni sull'immigrazione clandestina l'uomo infatti è stato controllato al pronto soccorso di Lavagna e trovato sprovvisto dei documenti di soggiorno siamo giunti così al termine di questa edizione del telegiornale tra poco le nostre rubliche incominciando da Noichiesa l'informazione tornerà domani con il TG13 ci vediamo a partire dalle ore 12.45 a tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata Grazie a tutti